Il Partito Democratico di Teramo, dopo un lungo commissariamento, si appresta a votare il nuovo segretario comunale, condividendo la candidatura unitaria di Massimo Speca a segretario dell'Unione. Speca è un giovane avvocato teramano, consigliere PD al Comune di Teramo, eletto con il sindaco Gianguido D'Alberto. Soddisfatta la presidente della Commissione congressuale, Manola Di Pasquale, che vede in questo rinnovamento una nuova stagione per il Partito Democratico. Il Partito Democratico di Teramo cambia passo con un giovane professionista, Massimo Speca. Dopo il commissariamento era necessario ricostituire gli organismi democratici, anche perché la nuova amministrazione ha bisogno di un supporto di programmazione politica che può dare anche il Partito Democratico con la sua attività interna. Quindi ricostituendo gli organi diamo la possibilità di esprimerci al meglio sulle esigenze della città, ma anche accogliere all'interno del Partito le esigenze della città. E quindi si è avviato la fase congressuale. Abbiamo fissato una data e in questa data l'unico candidato che ha presentato con un bel progetto di partito e di città è appunto Massimo Speca, giovane professionista che è anche lui consigliere e quindi può tranquillamente collegare il partito con l'amministrazione comunale e con l'attività dell'aggiunta del sindaco. Credo che è una bellissima figura che può rilanciare sicuramente questo partito cittadino. Per quanto riguarda le elezioni regionali, il Partito Democratico di Teramo come si sta organizzando? Ecco, intanto stiamo organizzando il partito e questo già è un grande evento, nel senso che ricostituire una base di programmatica e anche di persone che possono dare un contributo. Poi è chiaro che all'interno si avvierà quanto prima una discussione anche a livello regionale. Io credo che Ceno Sinistra debba avere l'espressione terramana di consigliere regionale che possa essere di aiuto e di stimolo anche all'amministrazione comunale. Ma il PD si presenterà con una propria lista? Io penso che il PD si presenterà con una propria lista. So che insomma c'è questa necessità di costituire delle forme di aggregazione civiche perché meglio risponda all'esigenza dell'elettorato. Ma questo non esclude che poi all'interno ci possa essere anche la formazione partitica che è comunque una valutazione che farà il Partito Nazionale. Per quanto riguarda la segreteria provinciale del Partito Democratico? Diciamo che intanto si sta avviando una fase congressuale a livello nazionale. A Catena ci saranno le regionali e le provinciali. Quindi un tema che sicuramente nei primi mesi del 2019 saranno affrontati insieme al Congresso Nazionale e quindi insieme alla nuova pelle che il PD dovrà avere.